Ha solo 19 anni ma è già un simbolo per le donne afghane, con la sua determinazione e la voglia di emergere in un paese così conservatore. Sadaf Rahimi pratica la box fin da piccola e si allena in una palestra di Kabul che prima della caduta del regime nel 2001 veniva usata dai talebani per tenere i prigionieri prima di ucciderli. Allora le donne non avevano diritti, ora le cose sono leggermente cambiate, ma praticare una disciplina sportiva, soprattutto una come la box, è comunque ancora un tabù. A Sadaf non interessa. Mia zia cerca di ostacolarmi, racconta, mi dice che le donne devono stare a casa e occuparsi della famiglia, ma io gli rispondo che non è così, possono anche competere con gli uomini, viaggiare all'estero per le competizioni e portare medaglie all'Afghanistan. Lei sta sul ring dai sette anni, con due idoli in testa, Mike Tyson e Laila, figlia di Muhammad Ali. Pesa 60 kg e anche quando si allena ha il capo coperto da una bandana e ha le idee molto chiare. In futuro vorrei diventare famosa, allenare altri boxer e avere una mia palestra, dice. Per ora ha vinto alcune medaglie in incontri regionali e sogna prima o poi le Olimpiadi, ma il suo obiettivo è anche sociale, affermare attraverso la box la parità di genere e dare l'esempio alle altre ragazze.